buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video questa mattina usciamo con altri tre amici e ce ne andiamo in direzione Campo Felice siamo pronti siamo carichi e ci vediamo al punto d'incontro ciao e comincia così questa uscita in mezzo al traffico di Ticoli una partita Roma per piacere il traffico a Ticoli, guarda che numeri che fanno comunque l'uscita oggi è così quattro giovani ragazzotti e dai però fio mio hai rotto la fodera da c***o qui c'è Andrea oggi senza Zaurrina senza Manila quindi mani in cazzate adesso si feghiamo Zaurrina dietro ci abbiamo Ivan pure lui senza Barbara infatti fa stranissimo a vedere di senza per loro dietro assurdo poi abbiamo il piega che sta proprio dietro di me eccolo se lo vedete dallo specchietto e l'altro ragazzo nuovo che non mi ricordo il nome mi sembra Marco cosa andiamo a fare queste tuffelle curfette che adesso solo traffico me sto a coce vivo vai ragazzotti dietro sta da nei gommi presaggi se sentano lì bello un Andrea da solo guarda come va senti come l'India il tigrotto ecco gli spilati tutti a quattro che spettacolo guarda che formazione pare nei preci tricolore prendiamo sempre un bel po' di distanza si esce per divertimento davanti c'è bagar attenzioni autovelox falle quando uno se sta a girerci vabbè ho visto che ormai siamo abituati qua scesi a fermare una tappa che fai te ne privi o se te che c'è al polso un gessato si riparte abbiamo preso un bel caffettino speriamo che non saliamo addosso è veramente brutta cosa quando devi al caffè così e mo si riparte 42 minuti alla prossima sosta carigli a pallettoni e mo si andava a divertiti un pochetto fermate chicco da questo guarda qui ma come cazzo ma porco guarda che stradina che stavo beccato quasi va pure enduro ragazzi dai che roba e schioppetto tiè guarda che roba vabbè salve locali salve stradine paesane che belle che sto guarda che posti che c'è 25 gradi qui sopra e a Roma si scoppia si danza tra le curve che spettacolo ragazzi come dice il buon max basta un giorno così cancellare 120 giorni stronzi e guarda ragazzi che è andato a pietta per terra signori e signori il lago del turano ciao belli ha fatto dritto ma guarda che il paesaggio che si sape davanti loro è bello dando a moto che potete testa a vista voi che state a casa cioè penso io arrivi a questi posti poi questa strada molto panoramica ma abbastanza de merda tra cagate de vacche sassi sborco non è poco il massimo però bella 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 curvosa appunto giusto e paradisiaca la guarda guarda che roba un grateri il programma è bellissimo guarda quando passava c'è così perché vedete che passavate voi almeno mi chiamate qualcuna riusciva a provare le palle come dicono in Inghilterra get this coin questo è un discurso Grazie! e dopo le consuete foto di rito si riparte per casa e lasciamo sta bella valletta giornata divertentissima, compagnia eccellente non attacciamo via, ma proprio contro mano a bestia noi capito? no qua non si può guardare dai e dai si può vedere che cazzo c'entra ma quell'altro pischello se lo siamo perso? mi l'avevo dato un po' eh? quanto ti sei divertito? ah si bravo! no guarda quello là e questo te quanto hai goduto? ti avviati dai però solo Gesù Cristo che è spenta se è spenta forse avevamo fatto qualcosa è spenta allora forse registrato ecchi i saluti finali mamma mia come è andata questa giornata? una favola è una bella giornata è una bella giornata siamo nel gruppo ciao e te? e te che ce lo dite? è una bella giornata senza parole e quella di Ivan ero da voi non preoccupato appena monta il video direi che per oggi il video può finire qui ci siamo divertiti da matti rientriamo a casa vi ringrazio di essere stati con me se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella così quando pubblico un nuovo video vi arrivano le notifiche ciao ciao alla prossima ciao